Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa della versione di Barney e vi presento subito i nostri ospiti, i nostri attori. Comincio dalla signora Rosamund Pike, benvenuta naturalmente, Bruce Greenwood, Scott Spiderman, Paul Giamatti e naturalmente Richard J. Lewis, benvenuti a Venezia. Lavorare su un testo così popolare, così amato, un testo letterario di culto, quanta paura, quanta preoccupazione prima di dare il primo Chuck? Ha fatto un po' paura perché è un racconto così tanto amato, è un libro talmente fantastico che sia gli italiani che i canadesi allo stesso modo amano e hanno totalmente accolto. Ecco perché dal mio punto di vista c'è stata molta pressione perché volevo essere sicuro che la natura essenziale del libro venisse tradotta sullo schermo. E questo per me aveva a che fare con Barney Penofsky e con il rapporto che ha Miriam, la storia d'amore è stata al fulcro, al centro, per far sì che tutto venisse reso in modo succinto. E anche il rapporto che ha con Miriam viene tradotta bene, doveva essere tradotta bene dalla pagina allo schermo. Queste sono le cose più importanti per me da fare, ma per rispondere alla sua domanda mi sono sentito sotto pressione ogni giorno, giorno dopo giorno.